Sono uno strano animale, sono un tipo eccezionale Sono il re del quartiere, te tengo i poteri Se perdo la pazienza Pronto? Ciao, come stai? Eh no, stavo... Sto lavorando Eh sì, un'animatrice vuoi? Per cosa? Per il matrimonio? Eh per il matrimonio sono io l'ho detta ai matrimonio, è meglio di me Eh vuoi un'animatrice, ascolta, ti mando mia cugina Bravissima, guarda veramente non sta mai ferma Vedrai che ti innamorerai della sua animazione Te la mando io, te la mando io, vai, vai tranquilla Roberta, dai vai a lavorare stasera, vai a fare un po' l'animazione a matrimonio Sì, un'amica mia, dai, vai tranquilla che l'hanno appaccata all'ultimo Vabbè dai, ci sentiamo, dai, ciao, ciao Risolvo sempre tutto, sempre tutto Mi scatla io anza Ah 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 Mi scatla io anza Grazie a tutti. Grazie a tutti.